Zona gialla e riaperture stanno ridando fiducia agli esercenti fiaccati da un anno di lockdown e zone rosse. I commercianti di Chieti potranno aderire fino al 20 di maggio all'iniziativa commercio e famiglie destinata ad incentivare lo shopping nei negozi di prossimità attraverso buoni acquisto. Stiamo dando già un aiuto concreto agli esercenti della città che quelli che hanno aderito nella prima fase e quelli che aderiranno in questa seconda stanno già venendo però quelli che hanno aderito i benefici con buoni acquisto che già montano a svariate migliaia di euro in poche settimane. L'amministrazione comunale poi ha istituito un tavolo con i commercianti per discutere e risolvere le problematiche della categoria. Nell'ultima riunione è stato condiviso il documento di riequilibrio dei conti dell'ente approvato dal Consiglio pochi giorni fa. In vista ritocchia il rialzo delle aliquote e delle tasse locali ma spiega all'assessore al commercio Manuel Pantalone ai sacrifici corrisponderanno iniziative di aiuto agli esercenti. Insieme ai commercianti stiamo anche costruendo una Fidelity Card del commercio cittadino una vera e propria carta dei servizi che saprà efficientare il rapporto tra la clientela e i negozi stessi e che saprà riavvicinare le persone in questa fase di riapertura.